A Ellie piace comportarsi male. Se avessi imparato a scrivere correttamente, sarebbe stato fantastico! Beccate! Ellie si prende cura della sua forma fisica. Lavora instancabilmente con i manubri. Oh, ecco cosa significa sentirsi a terra. L'apparenza inganna. Sotto il peso della conoscenza, Alex diventa più forte. Ops, i dolci nascosti nei libri sono stati beccati. Quando Ellie è in streaming è impossibile distrarla. Nemmeno con una piccola tavoletta di cioccolato. Un'altra opzione? Ancora no. Ma l'enorme KitKat è entrato facilmente nella sua trasmissione. Niente motiva di più dell'invidia. Non è vero, Alex? Conoscenza più immaginazione danno un risultato magico. Wow, questa pistola ingrandente ha fatto l'impossibile. Peccato che sia intervenuta la severa guardia. Questa è la ciambella più grande del mondo. Nelle mani di Ellie la moneta si trasforma in un'arma terribile. Che facile preda al cioccolato. Alex ha un piano esplosivo. Niente è più stimolante della sua tavoletta di cioccolato preferita. Ecco cosa ha fatto la nerd. Povera guardia. Un leggero gonfiore di stomaco si è concluso con l'imbarazzo di un gentil'uomo. Ognuno in prigione ha il suo modo di divertirsi. L'impudente Ellie ama sparire nel nulla. Oh, sembra che la guardia sia caduta in preda a uno svenimento. La divertente lezione di magia della ragazza cool è finita. Alex è incredibilmente fortunata. Un secchio di ossa rosicchiate non limiterà i suoi sogni. Wow, il nuovo abitante ossuto della cella insegnerà a Ellie l'anatomia. I noodles crudi sono una minaccia per i denti. Ma Ellie è una ragazza con molta fantasia. Con una chiave del genere è facile liberarsi. O almeno mangiare a sufficienza. Anche in carceri è possibile fare un pranzo delizioso. Questo è un mac menù super appetitoso per questa pianta a grane. Sì, Ellie non è per niente una lady. Alex ha preso un hamburger troppo saporito. Ma la nerd vegana non è abituata ad arrendersi. Wow, la soluzione al problema era nel panino. Che fortuna! Alex ha tirato fuori un biglietto fortunato. Non era abbastanza e ora è gigante. Ora la nerd è una magnate del gelato. A Ellie non piace quando qualcuno ha qualcosa che lei non ha. La ragazza popolare è pronta a tutto per il bene dei dolci. Che terribile ricatto per l'appassionata di scienze. Che ne dici di rinfrescarti? Forse serve una porzione più grande. Che tristezza! Ad Alex è rimasta solo la sua conoscenza. Una torta con un ripieno insolito è pronta. Ma per chi è? Alex ha un sospettoso attacco di generosità. Una torta con un effetto sorprendente. La nerd ha pianificato la fuga. Sembra che Ellie non abbia fretta di essere libera. Unisce il caffè e la torta soporifera. Che combinazione incredibile! Alex vuole fare di Ellie un genio. Ma continua a confondere le lettere. Ripetere è la chiave per imparare. Sì, Ellie non ha mai imparato la lezione. L'errore può sempre essere corretto. Alex fa di tutto affinché non ci siano persone stupide in giro. Ellie è chiaramente una tiratrice migliore della studentessa impegnata. Dare la colpa a qualcun altro è una mossa intelligente. Eppure, chi comanda qui? Ora è chiaro che tutto il potere è nelle mani della scienza. Il servizio fotografico in carcere è pieno di sorprese. La golosa Alex lo sa bene. Che vergogna dover correre in bagno. Per gli scatti spettacolari. Niente di più. Alex è sull'orlo di una grande scoperta scientifica. Finalmente ha funzionato! Oh no! Questo non è un cocktail, ma un liquido per la pulizia del WC. La pulizia è la chiave della salute. La guardia è armata, ma non molto pericolosa. Ellie approfitta del momento. Cosa sta combinando? Uno spettacolo con pentola e WC, con un effetto bomba. Degno di nota, ogni prigioniero sogna un cocktail del genere. Aiuta le nostre ragazze a non finire più dietro le sbarre. E iscriviti al nostro canale! E iscriviti al nostro canale!